Mi chiamo Nino Celeste, autore della fotografia e membro dell'ACI Mago. Vi parlerò della tecnica cinematografica che va dalla lettura del copione, allo spoglio, alla sceneggiatura, al piano di lavorazione, a tecnica della ripresa, alla ripresa finale, fino a portare il film alla post-produzione. Sono Roberto Girometti, autore della fotografia ICI Mago. Faremo un viaggio attraverso la cinematografia, partendo dalla prima proiezione al mondo e facendo un percorso attraverso il montaggio, il sonoro, il colore, fino ad arrivare al digitale. Sono Daniele Paglia e nella Masterclass mi occuperò della post-produzione, ovvero della color correction, tutte le tecniche atte a correggere problemi legati ai colori, all'esposizione e al color grading, ovvero al look che vogliamo dare al nostro girato. Vi aspetto tutti all'IF Masterclass. Vi aspetto tutti alla Masterclass. Vi aspetto numerosi alla Masterclass. Ci divertiremo. Grazie. 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 Grazie.